buonasera a tutti ragazzi e bentornati al canale be world 2.3 che cosa parleremo di questo titolo parleremo di hashtag la notizia giusto su una notizia che è uscita diciamo pochissimi giorni fa che è anche un po' stato divertente e anche che ha scatenato il panico in spiaggia su che cosa che si sono avvistati degli alieni in spiaggia ma vediamo di approfondire cosa è successo realmente su che cosa si è visto d'accordo intanto vi auguro una buona visione nel recente video approfondito sui video della marina giusto gli oggetti vanti identificati ma qui parleremo propriamente di alieni cioè che qui si dice che si sono viste le strane creature avvistate in spiaggia ma che cosa ci sarà dir vero su questa notizia intanto vi mostro qua quello che c'è giusto vari post e titoli articoli adesso andiamo a approfondire d'accordo qua potrebbero farci un nuovo film di fantascienza degli spiders aliens ecco qua ragazzi questo è un articolo scientifico giusto sud africa creature aliene avvistate su una spiaggia ecco la risposta un uomo ha scatenato il panico dopo aver condiviso le fotografie di alcune cose dall'aspetto inguetante che ha visto su una spiaggia in sud africa la spiaggia di steel bay in sud africa ha visto l'apparizione di creature dall'aspetto alieno ma cosa sono in realtà sarebbero l'opera di john worster che le avrebbe messe sulla spiaggia della sua città natale per lanciare un messaggio ben preciso per esprimere il suo messaggio in difesa dell'ambiente ha utilizzato delle piante secche di aloe ho pensato di utilizzare una metafora sul mondo in cui la gente vede queste piante come extraterrestri ma in realtà siamo noi gli alieni che stiamo sfasciando il mondo sono rimasto sorpreso dalla reazione ho pensato che la gente si sarebbe divertita ma poi è stato molto serio in parte estremamente serio molte persone hanno avuto paura di questi mostri marini dall'aspetto alieno la gente continuava a chiedermi quando le creature uscire e se uscire solo di notte certo perché chiaramente stiamo parlando del mare raga quindi avvisti delle misteriose creature nel mare e ti chiedi se escono di notte certo uno si va a fare il bagno e poi uno si spaventa chiaramente come ho detto prima questo è un ottimo per un film sugli spiders aliens i ragnalieni che non c'è stato mai un film così però sarebbe bello va il lavoratore agricolo di 62 anni aveva scattato foto di piante morte di aloe vera che aveva allineato sulla spiaggia all'alba in modo da evocare mostri tentacolari che invadono la riva ha quindi pubblicato le foto ultraterrene su facebook nel tentativo di aumentare la consapevolezza sul degrado ambientale sicuramente i suoi scatti gli hanno dato l'attenzione che ricercava il suo messaggio non sappiamo dirvelo le creature sarebbero queste che sono state avvistate ma non sono nemmeno animali sono soltanto delle alghe lo dice lo stesso articolo su ciò che abbiamo letto quindi niente extraterrestri o invasione per il momento siamo solo con i piedi per terra e che altro posso dirvi lieto di avervi dato una spiegazione su questa notizia un po come posso dirvi non scioccante comica o anche di uno scherzo di cattivo gusto è stato perché alcune persone si sono spaventate questo mi fa pensare e se un giorno ricevessimo un contatto di una civiltà aliena di un altro pianeta come si dovrebbe comportare l'umanità beh bella domanda questa gli scienziati sono sempre pronti al momento non ci sono prove che gli etti siano giunti qui sulla terra quindi loro non hanno scoperto noi ma potremmo noi scoprirli guardando gli altri pianeti che si sono scoperti simile alla terra tipo il video che ho fatto ieri su astronomi universi il confine oltre il sistema solare il sesto episodio che si a 16 anni luce si sono scoperte due esoterre bene ragazzi spero tanto che questo video vende i hashtag la notizia ma veramente sono stati avvistati degli alieni in spiaggia vi sia piaciuto iscrivetevi al mio canale che va qua andate un bel like e noi ci vi segno alla prossima ciao